ci provo oggi ho fatto un tentativo selezionare i vettori e distribuirli quelle che avevo provato a fare un po di pulizia la pulizia nel photoshop l'ho fatta ma era nella prima parte di un filmato su cui nella seconda parte avevo fatto una prova in coro che non mi era piaciuto anche in troppo lungo e di rabbia alla fine per non essere riuscito l'ho cancellato insomma non ce l'ho adesso invece di lidare con i vettori che mi perdo un po faremo direttamente un 3d e basta facciamo nella versione pro e dopo per i 2d qualcuno ti orienterà ti dirà qualcosa allora apriamo cosa volevo fare ok questa è la tua foto non ho neanche pulita dentro l'ho lasciata così per fare una prova allora con gli strumenti che ho in art cam pro 2008 l'ultima diciamo già penultima perchè è uscita una nuova ma comunque l'ultima disponibile farò dei vettori direttamente dalla fotografia che in photoshop anzi ce l'ho in photoshop vedi qui in photoshop l'ho trasformata in scala di grigi senza pulire le lettere dentro solo per fare un esempio l'ho pulita facendo selezioni con la bacchetta magica la magica mantola c'è scritto lì e facendo la selezione dopo si può fare dentro la select vuol dire che interferisce nella selezione tutti questi comandi sono per la selezione che abbiamo appena fatto che è attiva vedi i puntini che luccicano i trattini che luccicano in modifica modifai il bordo smold spandendo o modificando il bordo o smold arrotondandolo riusciamo a fare qualcosa di carino nel bordo allora questo bordo era molto più sfaccettato di quanto non sia adesso l'ho fatto tanto di smold lui è diventato così più dritto diciamo così dopo ho fatto spand lui è entrato un po dentro la fotografia e ho colorato di nero fuori ok dopo come il fondo era selezionato tanto che sono riuscito a colorarlo di nero ho fatto sempre in select inverse selezione per far attiva il modello dentro no il fondo il fiore diciamo e sono andato in immagine in adjustment per fare grayscale prima ancora di tutto avevo fatto qua grayscale adesso andiamo su i livelli di parametri di brillantezza e contrasto e ho fatto qualche mossa qui avevo firmato mi chiedo scusa ma l'ho cancellato era tutto qua sono stato 20 minuti qua a farlo vabbè l'ho cancellato e è venuto fuori da quella fotografia questo giocando con i colori con il contrasto sono riuscito a definire un po di più i colori di grigio per avere qualcosa che adesso vedremo come si comporta allora qua abbiamo la stessa fotografia che ho appena importata ok senza vettori solo fotografia senza niente senza selezione niente faccio così per vedere cosa succede per farti vedere anche e per capire anche da me cosa sta succedendo qui allora possiamo fare vedi la sopra la barra ok facciamoli così vediamo la fotografia ma non interferisce nei risultati con la magic wand che sarebbe la bacchetta magica di Art Cantor 2008 ripeto è una bacchetta magica che agisce sui colori della fotografia e ti crea vettori dal colore dai colore ok questo è un vettore creato dal bitmap è una vettorializzazione precisissima che ha un Art Cantor a partire di un'immagine che ho aumentato la definizione che l'ho pulita trasformato in toni di grigio eccetera 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 che hai visto ho accennato con questo questo vettore qui posso un po scherzare dentro si mica tanto scherzare nel senso che adesso ho troppi colori no? si faccio qua vedi mi prendi solo puntini perché è tutto sfumato no? vedi quasi praticamente non prendi nulla ora facciamo il vettore edit ando filiette boundary ando ando è questa qua si rimane adesso nei colori dimentichiamo un attimo la magic wand perché dovevo aver fatto questo nei colori prima nei colori per un un fiorone un rosone di 10x10 8x8 che dovrai fare sui colori in questi dettagli qui se non li farai a 3d o spinto non hai bisogno di tanti dettagli comunque sia anche se diminuiamo i colori chiudiamo la magic wand dopo riprendere la se vedi i vettori che sono stati creati sono rimasti qui si vedono bene vero? ecco questo poteva essere precisissimo se tu la in photoshop avessi disegnato bello carino i contorni che disegnando il contorno centimetro per centimetro magari anche millimetro per millimetro e la procedura per fare un lavoro di qualità ben fatto anche se hai fredda ah devo fare con fredda vabbè ma 3 o 4 ore magari 2 ore ben lavorate devi stare sopra un'ottografia se no come puoi creare un volume magicamente lo copri già pronto vabbè ma se no quello è il prezzo allora dicevo prima di fare la magic wand che è l'abbiamo capata che ci ho fatto vedere qui andiamo a ridurre i colori di questa fotografia che ha troppe sfumature e facciamo bitmark color reduce number mettiamo 7 mi piace il numero 7 sono pochi e non sono ok abbiamo ridotto i colori bene allora facciamo così nascondiamo questi vettori che un po' ci confondono sì vabbè ci sono le lettere qua che fanno un po' di casino potevamo anche aver ridotto di più questi colori perché alla fine nella lavorazione adesso sto facendo tutto questo ma con l'intento di ottenere vettori per darti lì per farti capire che anche nella versione pro si può fare e se hai l'ultimo per l'angolo a 2008 vai molto di più senza capire niente del programma solo con queste funzioni che sto un po' elencando qui capisci? riduciamo ancora vai? riduciamo un quattro colori... sì... sì... cambiato... qua ancora... bene... vedi il nero... bianco... adesso... cominciamo a vedere cosa succede se... selezionando questo vettore qui e non più la bocchetta magica ok? abbiamo questo colore selezionato usiamo questa funzione qui bitmap to vector che mi crea il vettore attorno al colore che ho selezionato facciamo... create vector e mi ha creato i vettori attorno a... vedi quanti? la mucchiata... già con questi vettori qui si può ottenere un lavoretto simpatico se in più si mettono anche quelli di fuori che qua sono in nero vedi? quindi... dopo cancelliamo questi qui di fuori... questi vettori qui... intanto... lasciamo... ah sì... cancelliamo subito perché... non ci servono... ok? ecco qua... così... facciamo più pulito qui... allora... selezioniamo tutti i vettori... e quello nero non si è selezionato perché vedi la mia selezione non è andata a inglobarlo... vedi? è mancato un pezzettino... adesso sì... facciamo una selezione un po' più... che passi fuori... seleziono anche quelli di fuori... ecco qua... cioè... un casino di vettori qua... si può fare un bel lavoro... ma... non mi piace perché è troppo confuso... allora facciamo... edit... ando... ando... ando dellezzi... vabbè... quindi... no muove... ando muove... I red... ok... ando in lì... e... selezioniamo... questo qui per cancellarlo... facciamo questo... selezioniamo quello di fuori... copiamolo... per preservarlo... mettiamo... su un vettore... rinominiamolo con contorno contorno diciamo di si facciamolo attivo e passiamo quel vettore l'abbiamo adesso selezionamolo un'altra volta e lo cancelliamo delete ok abbiamo questi qua perché sto facendo questo che li volevo proprio cancellare che sono troppi ora cancelliamo ma il contorno lo volevo preservare cancelliamo chiudiamo questo vetmat vector torniamo a questa nostra immagine che abbiamo selezionato questo questo colore qua non mi è andato bene non mi piaceva selezioniamo quest'altro qua e facciamo vettore create vector vediamo un po' come succede ah più carino qua vedi magari questi abbinati con quelli di fuori questo scherzo con i vettori l'avevo già fatto l'avevo già fatto solo con 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 la selezione di colori e non mi era piaciuto per niente ti faccio vedere la fotografia se mi ricordo vabbè ma non è importante perché non è importante ma vedi qua ci sono vettori basta andare e lavorarli un po' ok abbiamo fatto i vettori li hai visti aspetta faccio un'esperienza attiviamo qui il contorno creiamo un vettore perché questo pezzo bianco qua non mi piace creiamo un contorno qua un vettore qui e selezioniamo facciamolo selezionato tasto shift selezioniamo questo di fuori e facciamo flood view con nero perché abbiamo nero qui vediamo se riusciamo flood view scegliamo il colore nero ok e facciamo flood view vettori stiamo lavorando con i vettori selezionati ok abbiamo avuto la patch di fuori colorata di nero con quel pezzo bianco che non mi piaceva ok vedi anche questo vettore fuori dal modello attua e l'abbiamo fatto solo per aver selezionato il nero ok e dopo possiamo usarlo anche per lavorarlo creare altri 50 altri e non usarli dentro del lavoro ma solo per la lavorazione ok abbiamo il contorno ti ho fatto vedere il contorno gli altri vettori che sono scomparsi che sono qui vedi e il contorno ok questi sono i vettori che possiamo fare quello che ho fatto si può fare con meno colori separare i colori disegnarli questi vettori è una stupidata facciamo un cecchietto qui qui chi ha trasformato il contorno non sono libero questi questi costi posso selezionarlo trasformo trasformo ok vedi questi sono i vettori perché stavo facendo transform non poteva funzionare perché questi qui sono per movimentare e muovere il il vettore no io voglio si muoverlo ma no solo con questi qui allora non si fa trasformo che è questo simbolo qui che avevo attuato e volendo selezionare uno di questi scompariva tutto perché tornava a selezione è node editing ok che allora posso selezionare solo questo puntino qua per muoverlo capisci ah vedi lo muovo questi sono punti di controllo di che funzionano appesi direttamente collegati con questo vedi non contento con questo quattro punticelli e due assessori suoi due aiutanti due le parole mi mancano un po' perché non sono abituato a parlare in italiano tecnicamente comunque tu si vai qua e fai tasto destro e fai crea punto insert point vedi si creano altri punti insert point eh che e fai inventare poi selezionarli muovi muoverli o semplicemente fare vedi con queste movimentazioni tu puoi fare quello che ti pare ossia se puoi fare una petola un cuore una forbice un uomo insomma un ragno quello che ti pare un po' di pazienza vedi qua fai quello che vuoi più punti metti più controllo avrai su il vettore ecco il vantaggio è che questo vettore qui disegnato dentro il programma vedi è un vettore chiuso e pulito pronto per essere lavorato in H nella parte di percorso tensile ok quello è il più importante allora invece di avere tutto questo schifo qua tutto seghetato ci farebbe per esempio prenderevi di mira un petalo di questi qui creerebbe il vettore del contorno con un cerchio e trasformandolo arrivare al contorno dopo copiandolo tu fai tutto il fiorone dopo metti solo un elemento in mezzo e vai via subito a lavorare nel percorso tensile capisci? ecco questo qua chiediamo il capitolo vettore adesso passiamo al capitolo rilievo ok togliamo il vettore di mezzo bitmap facciamo tutta piena e andiamo a fare prima cosa un create relay frontimage che è quello che mi piace lavorare io sveglio mi piace non ho mica detto che lo so fare solo mi piace ok vediamo cosa abbiamo combinato abbiamo il fiorone in volume ok questo già è un lavoro tridio basta è pronto ovvio ci sono le lettere là in mezzo ma quel fiorone non è un fiorone da prendere per fare un lavoro commerciale da vendere è un lavoro professionale un lavoro professionale prendi 10 dollari che sono 7 euro 8 euro compri il fiorone e lo avrai bello pulito qui come tanti altri che puoi trovare gratis anche in suo internet io avrò 3.000 modelli scaricati da internet che non hanno copyright senza comprarli e dopo comprarli come ho detto 8 euro non è che eh e non non sta impazzendo come io qui ma io ho i miei motivi per impazzire qui non è solo per spiegarti nel spiegartelo trovo il tempo di esercizarmi anche mi ripago con quello adesso qua facciamo smolt 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 e dopo faremo un altro lavoretto su un altro piano di rilevo solo di testura di fare solo la testura della porta del rilevo prima cosa facciamo un smolt vediamo se con uno succede qualcosa se no facciamo ah uno succede no smolt 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 facciamo una ventina di punti di smolt anche di più se vogliamo ok vai vai ok e abbiamo fatto uno smolt il rilievo è troppo alto abbiamo 14x14 qui 140x140 millimetri qua con il puntatore vedi il puntatore sotto in questa zona qui appaiono le misure tu quando vai sopra quello lo sappiamo già che abbiamo fatto con due millimetri qualcosa di altezza ma comunque quando vai sopra il rilievo ti dice qui 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 vedi che scompai il numero perché dopo arrivo là no esco da rilievo ti dice quanto hai di rilievo eh adesso quel bordo lì non mi piace voglio toglierlo andiamo e facciamo due tasti sopra il colore nero vedi che è rimasto nel shape editor ok il colore nero e lo voglio a zero e lo facciamo a zero vedete ha scomparso non so se è fatto caso torniamo indietro facciamo un po' e non mi piace allora selezionando il nero con due tasti destri nella zona nera che appaia qua selezionato e se faccio un solo qua mi appaia selezionato per fare funzioni sui nero altri che voglio sì clicco due volte mi apri il shape editor che mi dà possibilità di muovere volume aumentare crescere e quello che abbiamo fatto andiamo nel 3d perché tu lo veda è di qui faccio a zero scomparirà ecco qua visto? ok abbiamo il zero e il fiorone qua guarda questo fiorone qua abbiamo 2 mm di altezza sembra tanto per 14 per 14 mm per 140 mm per 14 per 2 poco mi sembra spazionato qua con me mi sembra tanto io direi che sono quasi 7 cm 2 cm qua abbiamo impostato 1 cm no qua è 14 qua è 35 qua è 0,8 c'è questo grande 0,8 di altezza vediamo un po' questo modello quanto mi misura modello 39 ah è per quello vedi 2 mm in 39 sono tanti ok allora va bene dopo aumentiamo anzi facciamo adesso aumentiamo le dimensioni a 140 per quello solo vedendo che era troppo 140 non abbiamo più 39 come c'era lì che era la misura della fotografia magari quando l'ho importata che cazzo eh sì e abbiamo 140 con 140 sì che abbiamo adesso sì vedi 8 mm e riduciamo questa altezza sapevo che non c'era nulla ad occhio non lo vedevo schede di 3 mm ma non manco morto a 3 mm questo qua facciamo una mezza ok ecco e abbiamo ridotto 6 6 ancora di più 6 mm è troppo ma vabbè per un lavoro di semplificazione va bene ok dopo fatto questo qua vedo che nelle punte qua si poteva abbassare un po' dalle più e proviamo con un strumento scultura a vedere cosa riusciamo a combinare sì con questa modella scultura vediamo cosa abbiamo un diametro grande troppo grande ancora non molto qua si va bene facciamo caro voglio scavare e con una altezza l ecco questo smoothness qua facciamo 0 voglio che non che questo comando non agisca nel nel piano di lavoro che è 0 già faccio lock 0 plane l'ho bloccato faccio qua non succede niente vedi ma voglio lavorare posso tornare indietro posso tornare indietro posso tornare indietro posso solo dire reverter sì ok allora è troppo troppo il diametro va bene questo qua che non ho capito smoothness ah sì perché era troppo secco il corpo del pennello eh no continua troppo secco reverse sì facciamo così anche reverse sì allora il card non mi va bene usiamo lo smooth sì perché io il card mi toglie non per toglie tanto sfumato poca altezza per vedere cosa succede un diametro non troppo grande e facciamo un smooth per togliere un po' l'altezza dei lati vedremo cosa succede ok dopo questo qua magari passa un po' fuori dal bordo noi con i vettori che abbiamo creato nel contorno della fotografia attiviamo un'altra volta quel vettore e aggiustiamo il zero attorno al fiore vediamo un po' come è successo questo qua sto facendo per fare una base per il fiore e dopo proviamo a incollare un rilievo sotto e vedere cosa viene fuori ma questo è come lo farei io non è che non prenderla come una lezione questo qui solo un cosa che io farei al posto tuo ma non forse ok diciamo che è sufficiente diamo un'occhiata qui per vedere sì ecco l'abbiamo piegata bene ok finish ok finiamo un po' eh finish io non ho eh non ho applicato l'emodificare invece di un altro lock zero smonti non abbiamo un'altra volta c'è ancora qua vuoi vedere che c'è ancora qua eh c'è allora facciamo ah a me la marea è rimasta eh apply è finish non si è appaiato non fa ancora mamma mia scontro apply allora e finish niente non è successo un brazzo oh ragazzi qua c'è non lo voglio fare ma no spiegatemi cosa ho fatto l'esbagliato qua ah sì perché c'è il colore da usare dice che ignora il colore ok vediamo un po' vediamo un po' non so come va ho fatto tante volte queste tante volte basta che facciamo poca pressione se fosse una cosa che dovrei fare per lavoro ci mettevo altre 5-6 ore quella facevo ah sì no non c'era vai aspetta un altro che ti dia qualche consiglio ciao ciao eh indovino un po' se c'era tutto qua già l'ho un po' rovinato facendo delle prove sopra vedere si 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 attuava perché segui il mouse segui il mouse qui avevo qui avevo questo selezionato vedi che è diventato grigio il relief layer e quando abbiamo fatto create relief front image lui ha creato un nuovo rilievo con il bitmap il volume da bitmap che è su quello che stava facendo il lavoro di bla 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 e noi avevamo selezionato quello di dell'altro capito? no avevamo selezionato invisibile questo qui ma selezionato quello di sotto vedi il grigio questa è anche una cosa un po' scema su altcanto scema dico complicata perché tu hai grigio nel rilievo le cose si attuano nel rilievo ma se non hai la lampadina accesa non vedi le cose che stai facendo eh eh va bene ok intanto il risultato è qua era quello che volevo fare adesso torniamo alla vista 2D facciamo un zero nel nero per vedere se togliamo questo schifo che è l'ultima prova che ho fatto non credevo fosse possibile che non funzionassi la scultura l'istrumento scultura vabbè insomma impariamo vedi abbiamo ribassato l'altezza e a quel punto l'altezza era a 3 non so se ti ricordi quando siamo arrivati qui nel rilievo continuava a 8 e l'ho abbassato ancora a 1,4 ma perché avevamo questo rilievo vedi questo rilievo attivo eh eh caro eh c'è alla fine avete ragione anche voi da un anno che smanetto con questo senso professori con qualcuno che mi dà grandi consigli senso altro ma finché non metti mano per la realtà queste volte che sto facendo questi tutorial qua mi obbligano a prenderlo in mano perché non è che lo prendi in mano mica tanto non lo ho tempo dovendo prenderlo in mano per capirlo e poter insegnare perché mi sembra strano non poter dire queste cose che non capivate queste cose ma facendoli vi faccio vedere con tanti tanti errori ma tanti no vedi se non si seleziona il livello adesso abbiamo selezionato questo dopo spegnendo il livello non abbiamo nessuno dei due livelli accesi attivi c'è questo selezionato allora si faccia qualcosa farò su quel livello anche se non lo vedo comunque adesso la lampadina è accesa lo vedo che non c'entra nulla con l'altro adesso lo attiviamo l'altro anzi lo selezioniamo con il grigetto e lo attiviamo con la lampadina e di questo è da capire perché dopo nella versione 2008 si possono fare tanti livelli di rilievi tante prove non siamo obbligati adesso faremo il tormento scultura su di questo qua per finire non siamo obbligati non siamo obbligati a usare tutti questi lavoretti che abbiamo fatto capisci ma possiamo non questi esattamente perché sono sbagli no ma possiamo creare rilievi per esempio questo qua adesso l'ho creato non è quello che volevo ma adesso lo faremo quello che volevo ma avendo si fosse ben riuscito era pronto per poter usare una di queste funzioni qui per aggregarlo all'altro al lavoro avendolo visibile e attivato dopo mi piace non posso mettere sopra non posso togliere sottrarre mettere l'altro sopra di questo qui e così via fare tante prove carine che è simpatico dopo alla fine del risultato o e se mi piace tutto alla fine dico mi metti tutti assieme qua in queste funzioni qui tu li metti tutti assieme merg au visbo ok ecco qua per il momento non vogliamo fare questa operazione noi vogliamo nascondere questo qui perché non ci fa schifo non è quello che volevamo qui torniamo da capo eravamo su questa operazione di scalare il rilievo e non siamo riusciti a fare nascita mamma mettiamo tre ecco vedi adesso è arrivato lì ok adesso abbiamo sì questo qua attivo perché è grigietto selezionato e visibile attivato e allora possiamo usare perché qua io posso usare gli strumenti scultura ma non posso muovere il volume il modello, per muoverlo devo andare tutte le volte a selezionare vedi qua sopra triddle view triddle view view e aggiustarlo adesso se voglio fare un'altra volta non posso perché mi funziona l'istrumento l'aerografo qua io per muoverlo ancora se toglio il mouse di mano basta, devo un'altra volta selezionare una caratteristica che sembra che nella versione 2009 non è la versione 9 non confondiamo che è anteriore alla 2008 la versione 9 solo dicevo nella 2009 la versione nuova che stanno lanciando l'ultima queste funzioni sembra che li hanno agevolati un po' il pennello era quello che avevo scelto tanti e tutto com'era perché io l'ho fatto tante volte queste cose mi sembrava strano che non riuscissi a farli guarda qua adesso si vede anche no? porca puttana Eva eh ma è possibile che io per fare un esercizio di dimostrazione di funzione del programma devo partire questo morca vacca guarda eh era questo che volevo fare ok vediamo un po' come è successo ok più o meno no leggermente oppila questo qua io fra poco farò con le mie cose ma non con il mouse lo farò con una penna grafica un tablet come si chiama un tablet grafico insomma una pennetta al posto del mouse la 50 euro prendi una e questo diventerà puoi prendere il pennello e fare sculture sculture senza avere la mano per fare scultura basta un po' di fermezza nella mano e un po' di idee per poter farlo non deve per forza essere artista per farlo facciamo apply e adesso si applica finish e finalmente abbiamo quello che abbiamo fatto all'altro lato qui anche riportato nel modello andiamo su il modello 2D per appianare un po' i contorni con il zero nel nero ecco qua e abbiamo chiamiamolo il lavoro di base del rilievo ok adesso creiamo un nuovo rilievo senza nulla ecco qua rilievo nominiamolo con facciamolo rilievo proprio il suo nome rilievo diciamo di sì che si chiama rilievo adesso aspetta un attimo questo qua lo chiamiamo base perché è la base del lavoro del rilievo questo qua è sbagliato vediamo cos'era ricordi questo era sbagliato questo lo possiamo proprio cancellare e cancelliamo questo non ci interessa attiviamo quelli che abbiamo fatto uno con e l'altro senza e diciamo fammi il rilievo da quella immagine un'altra volta ma adesso voglio fare un rilievo solo di testura e lo faccio bello piattino senza grandi ecco qua vedi solo un eh la testura ovvio già abbiamo parlato su questo ci sono le mettere fuori si sporcano un po' la cosa beh ma fino adesso anche se è passata mezz'ora abbiamo solo fatto importato il fiorone dato rilievo dov'è la base dato il rilievo ha dato un po' il rilievo con quello automatico che il programma ha fatto da quella foto che abbiamo messo da photoshop un po' scherzata e qua abbiamo ridotto i colori basta siamo andati a pianare un po' per far cadere un po' ancora potevo fare di più senza rompere senza perpendicolarismi qui alla fine no? adesso ho aperto un altro rilievo con la fotografia e qua mettiamo rilievo perché non mi si è vediamo un po' selezionandolo questo rilievo l'avevo chiamato e lui si è andato a finire nel rilievo che non si è rinominato ok allora bitmark vai che è quello che si forma in automatico non dovevo non c'era bisogno di creare un nuovo che è questo qua è chiamiamolo finitura così non facciamo sbaglio basi e finitura questa finitura non è che mi piace voglio lavorarla lavorarla un po' facciamo uno smooth per vedere cosa opla una schella una schella uno smooth per vedere se riusciamo a ok solo per dare un po' di ok mettiamo anche un po' di pulizia nel contorno facciamo 0 nel nero ecco abbiamo pulito il contorno per approssimare quello che abbiamo nell'altro base questa è la finitura ok adesso questa finitura attiviamo la base la base attiva prendiamo la finitura e diciamo finitura tu voglio che tu vada sopra quello e lo aggiungo ok facciamo questa finitura salire sopra e la base anche per vedere cosa cambia finitura è sotto già ok era già sopra vedi allora cosa ho fatto qui ho incollato sulla base vedi la finitura ma potevo anche dire finitura voglio che tu mangi invece di accoppiarti con quel pezzo lì e lei mi ha mangiato invece vedi è andato sotto vedi questo qui a grosso modo adesso guardandolo sembra un po' schifoso come modello ma frezzalo in legno vedrai anche con tutte quelle cose senza pensarci che abbiamo fatto solo la fotografia pulita al contorno aumentata di risoluzione in photoshop portata qui dato un piccolo aumento di rilievo vabbè con un po' di sbagli perché abbiamo sbagliato a attivare selezionare i piani qui i livelli di rilievo vabbè imparando anche magari anche buono che è successo così si impara che qua deve essere così e che si possono fare tante cose qui e risolto quel problema dello sbaglio l'abbiamo portata nell'istrumento per appianare un pochettino la base che era questa qui l'abbiamo appianata abbiamo ridotto l'altezza perché sembrava un po' troppo abbiamo appianato i bordi fatto qualche sbot in generale e dopo creando ancora nascondendo questa e creando ancora per la seconda volta il rilievo solo che questa volta non tanto altro ma solo per fare la finitura l'abbiamo incollato al lavoro ok ma questa sarebbe una procedura semplicissima per carità non mi prenderà troppo male per i sbagli che ho commesso ma comunque questa è una puttanata farlo anche se io che non ho esperienze ma ho fatto tante volte ho sbagliato questa volta nell'insegnatelo ma come avevo già fatto un tutorial con photoshop e coreo con i vettori molto bello molto carino ma era venuto uno schifo il risultato e ho voluto fare tutto un'altra volta e non mi sono fermato per correggere gli sbagli adesso ti faccio vedere cosa avevo compilato con coreo guarda questa qua era la vettorializzazione con coreo vedi che carino eh si va bene partendo sempre dalla fotografia di photoshop sempre quella questa l'ho dato in pasta coreo e dopo c'erano tutte le operazioni che ho fatto qua che ti ho spiegato più o meno all'inizio di questo video qui e 20 minuti e basta solo qua in photoshop che li ho cancellati vabbè da questa vettorializzazione l'ho portata dentro artcan e l'ho salvata adesso ti faccio vedere dove l'ho messa se mi ricordo o si magari o non era o qua no era qua non è morto vedi questo era quello che avevo fatto in coreo ma dopo avevo dentro artcan selezionato tutti questi che sono grigietti qua che sono blu in realtà di un altro colore fatto un livello separato il contorno a un altro livello dopo ho fatto queste selezioni piccoline qua tutti uguali nello stesso posto in tutte le punte è stato un altro livello e dopo li ho incolati tutti ho perso tutto insomma e a quel punto mi sono fermato ho detto bye bye e ancora ho riprovato per fare questa questa scimonata qua con te ok e questo sarebbe un po' come procedere anche con tutti gli sbagli grazie a tutti